spendete 20, 30, 40, 50 euro per farvi una foto professionale, cioè farvi una foto, cioè non ragazzi i santini, così, no, fatevi una foto fatta bene, così, dove sorridete, state in bella presenza, ragazzi, le relazioni, dovete avere un bel viso sorridente, così proprio sono le basi, le basi, nessuno vuole parlare con voi che siete tutti spatti, non spatti. E' il consulente marketing più pagato al mondo. Ok, benvenuti a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Una giornata con lui costa 20.000 euro. Riconosciuto come il creatore di milionari. Allora, ascolta attentamente il papi. Ha già rivoluzionato le sorti di decine di migliaia di imprenditori. È tra gli esperti più preparati al mondo in campo marketing, business e make money. Abbiamo creato un qualcosa di mai visto prima. Con il suo approccio brutalmente diretto e pratico, è il punto di riferimento mondiale per chiunque voglia generare profitto. Imparare veramente come si fanno più soldi, veramente come si è liberi. Imprenditore, autore e formatore acclamato. Signori, lui è Big Luca. Definiamo che cos'è un chatter. Ragazzi, il lavoro del chatter è quello di avere il proprio profilo. Cioè, quindi voi dovete avere, se si utilizza Facebook, Facebook. Se si utilizza Instagram, Instagram. Comunque, il vostro profilo aziendale. Metterci la vostra faccia e costruire la relazione con la persona. Questo è. Perché, ragazzi, è importante fare questa cosa? Questa cosa è importante farla perché immaginate se... Cioè, nel senso, quello di cui hanno bisogno oggi le aziende è appunto, sono, come vi dicevo nell'introduzione, nel disclaimer, persone che costruiscono relazione. Quindi per costruire relazione dovete avere, da parte dell'azienda, magari, prendiamo l'esempio di Facebook perché è il canale che mi piace di più per, diciamo, per fare attività come chatter. Voi dovete avere la copertina del profilo che esprima il chiaro messaggio della soluzione che state vendendo o comunque di quello che... Cioè, quella che può essere magari anche per policy aziendale, ci sono aziende che mettono logo dell'azienda, payoff o la vision aziendale, queste robe qui, ok? Quindi dovete avere una foto profilo professionale, una cover del profilo Facebook professionale, la descrizione chiara di quello che fate, magari nei contenuti in evidenza. Mettere dei contenuti che vi dà l'azienda. Per questo, poi, come vedremo, è importante lavorare in aziende che hanno un ecosistema di marketing. Ehi, mi raccomando, iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing, business e profitto. Quindi avere tutte quante queste cose qui perché? Perché dopodiché, nel momento in cui voi andate in Outreach e iniziate a costruire relazioni con dei potenziali clienti, fatevi furbi. In senso, con l'accezione positiva del termine. Quando voi scrivete a qualcuno che è potenzialmente già in target, ok? E già vede quello che fate, il vostro profilo Facebook di per sé diventa già un funnel. Pensateci, vedono cosa fate, immaginatevi la cover del vostro profilo Facebook come l'inizio di una landing page. Vedono che fate, che non fate. E quello che vi capiterà col tempo, mano a mano, che ci prenderete esperienza, cioè che farete esperienza, e che saranno le persone ad aggiungervi e saranno le persone ad arrivarvi direttamente inbound perché interessate a quello che fate. Però ragazzi, veramente, questo a prescindere, cioè così, no, fatevi una foto fatta bene, così, dove sorridete, state in bella presenza. Ragazzi, le relazioni, dovete avere un bel viso sorridente, così proprio, sono le basi, le basi. Nessuno vuole parlare con voi che siete tutti spatti, non spatti, così, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, prendetemi, sono un imprenditore, potrei starmeli qui in t-shirt a fare le cose. Io mi sento così perché questa è la mia suite. Io mi sento bene così, sono così. Cioè, ma anche con te stiamo facendo un corso per insegnare a guadagnare, quindi io mi sento di farlo così perché questo è il mio background. Quando lavorate con e fate outreach su altre persone, altri imprenditori, nella media, quello che fanno gli altri, come si presentano? Si presentano così, armiamoci e partiamo, come si dice dalle mie parti, ma non è così, bisogna presentarsi in un certo modo perché voi siete dei chatter, ok, rappresentate l'azienda, dovete rappresentare l'azienda. Ovviamente, vi faccio un esempio scemo, se lavorate per un'azienda di sviluppatori software dove sono tutti nerd con la felpa, cioè, nel senso, lì magari stare in felpa, così, magari è la normalità e rispecchia quello dei valori aziendali, quindi comunque va contestualizzata. Come cosa va assolutamente contestualizzata, però era giusto per darvi, diciamo, un riferimento. Cioè, quindi, come vi presentate, ok, cioè, come vi presentate sul vostro profilo e come, immaginatevi, mi vedete per strada, ok, mi vedete così, sono io, come mi vedete sul mio profilo, ok? E voi, ricordatevi che rappresentate l'azienda per la quale state lavorando. L'azienda ha bisogno di voi per creare opportunità commerciali, quindi questa è una cosa molto importante. Possiamo dire che in un contesto non info business, non business online, ma diciamo di aziende più tradizionali, ok, anche grandi, anche che lavorano con il digitale, però diciamo, immaginatevi la classica azienda fisica che ha gli uffici con i dipendenti che vanno, la figura del chatter potrebbe rappresentare il business developer, ovvero la figura che sta lì dalla mattina alla sera a scrollare internet, social e quant'altro per aprire opportunità commerciali per conto dell'azienda. Quindi queste sono un po' alcune definizioni. Non esistono altre figure, è probabile che voi magari su Instagram, su Facebook, su altri canali vedete che oggi qualcuno si inventa la figura, non lo so, il generatore di appuntamenti o robe di questo tipo. Sappiate che in realtà sono cose che aziendalmente non esistono, ok? E semplicemente sono modi diversi per vendervi le stesse cose. Io ovviamente non sono una persona che fa giudizi, vi tengo semplicemente alla larga e lontano da questa cosa qua. E tra l'altro vi do un suggerimento, ovvero all'interno di questo corso di formazione voi troverete tutte quante le informazioni che vi servono per lavorare come chatter ed imparare a fissare appuntamenti di vendita per i venditori dell'azienda per cui lavorate. Ricordatevi che ad oggi sul mercato, e stiamo registrando nel 2023, non esiste nulla di più aggiornato rispetto a quello che troverai in questo corso di formazione. Non ho nessun interesse a dirtelo, cioè nel senso io, vabbè, senza parlare del mio passato, però, diciamo, ho venduto corsi per anni, ok, senza citare il nome della mia vecchia azienda, non avrei neanche l'interesse di dirti guarda vai a comprare, non vai a comprare quell'altro tipo di informazione. Ok? Semplicemente quello che trovi qui è il frutto di lavoro di anni nella vendita alle aziende, di come si costruiscono le relazioni, ok, di come si vende a aziende che fatturano miliardi, a come si vendono al ristorante, ok, che io ho preso quello che ho fatto per le corporate e l'ho riadattato per venderlo anche in un contesto di PMI aziende più piccoline. Quindi questo è quello che troverai in questo corso di formazione.